Carissimi amici, stiamo a San Sebastiano, una delle sette chiese di Roma frequentate a San Filippo Neri, patrono di Gioia del Colle. Lui veniva spesso a pregare in questa chiesa, perché c'erano le catacombe. Ho fatto anche un video, a proposito, se lo volete vedere è ritracciabile sul mio profilo Facebook. E YouTube, per avere un'idea. Questa è la piazza antistante, con i pellegrini, e questa è la facciata della basilica che abbiamo appena visitato. Che devo dirvi? Tante benedizioni e saluti a tutti. Grazie, ciao. Grazie.